Signori tutto risolto, finalmente tutto risolto 9 ore fa stavo malissimo, stavo tipo depresso Ma finalmente adesso ce l'ho fatta, non vi preoccupate tutto sistemato Grazie anche ad Alessandro Cede King, grazie anche a Francesco, c'è un mio amico Comunque veramente sono contentissimo perché finalmente possono ritornare Fate conto che quel video lì non l'ho mai caricato, fate conto veramente Vi ringrazio anche di tutti gli hashtag che mi avete fatto Grazie a tutti i commenti positivi, grazie veramente di cuore a tutti Comunque dai almeno una cosa positiva c'è, se si va a rompere questo computer C'è quel computer che comunque una mano me la dà Poi ci sarà anche quell'altro computer che sta lì sotto, quindi raga sono in buone mani Veramente sono contentissimo appena ho visto che questo computer si è acceso Tipo ho esultato come un porco in calore Niente dai volevo questo video solamente per avvisarvi che è tutto risolto Domani ci vediamo con un video sul canale, mi raccomando alle 5 sul canale Io vi ringrazio, ringrazio ancora tutti Io vi saluto, ciao a tutti